Musica Doppiavela dalla Dispoli 01 Buongiorno alla Dispoli 01, buon attento Prima autoradio nella storia del commissariato di Radispoly Buongiorno, ben sentite a tutti voi, allora Buon attento 14 febbraio del 2022 La prima volante varca la soglia del commissariato di Via Vinius La Polizia di Stato finalmente è operativa alla Dispoli Non solo, a Cervetri, anche altre località del litorale nord Dottor Federico Zaccaria, dopo un anno Può trarre un bilancio delle vostre attività? Ricordo quel giorno come se fosse ieri Ed è stato un giorno emozionante per me e per tutti i miei collaboratori Il bilancio a distanza di un anno o poco di più da quel giorno Non può che essere positivo E lo dicono soltanto alla luce dei risultati operativi E quindi dei cosiddetti numeri Perché se andiamo a vedere quanti controlli sono stati fatti Quanti arresti sono stati fatti Quante denunce sono state fatte Sicuramente i dati ci restituiscono l'immagine Di un ufficio di polizia particolarmente impegnato E capace di realizzare risultati di rilievo Ma è la cosa che forse mi interessa di meno Perché reputo il bilancio positivo Dopo un anno alla luce del fatto Che questo commissariato ha saputo conquistarsi la fiducia dei cittadini E quindi dopo un anno il commissariato è riconosciuto come tale Cioè come un punto di riferimento Un punto di riferimento sul quale si può fare affidamento Rispetto al quale si può avere fiducia Un punto di riferimento per la popolazione Per i cittadini che potrebbero avere bisogno del consiglio Su una questione, su una pratica, su una problematica di natura amministrativa Oppure chiedere il nostro aiuto su tematiche molto più serie e delicate Vedere come nel corso dei mesi La cittadinanza ci abbia scoperto E abbia fatto riferimento a noi con molta serenità E con molta fiducia Ecco, alla luce di questo Io reputo che il bilancio dopo un anno o poco più di attività Sia particolarmente positivo Per molti è stata un po' una svolta storica L'avvento della Polizia di Stato qui alle Dispoli Però sul lato, voglio dire, principalmente umano Quale emozione per un dirigente di un commissariato Insediarsi in una città comunque in forte crescita come la Dispoli? L'aspetto umano va di pari passo con quello professionale Anzi a volte è anche assorbente rispetto al secondo E prevale rispetto al secondo Le emozioni sono state tantissime Orgoglio perché il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ha ritenuto di affidare al sottoscritto un compito Che non ritengo scontato Cioè quello di dar vita ad un nuovo commissariato che prima non c'era Senso di responsabilità sicuramente Senso di appartenenza perché in questi casi scatta nel poliziotto Questo senso di appartenenza che ti porta ad affrontare il lavoro Che non è un lavoro facilissimo Però con tutte le energie di cui si ha bisogno Anche quella che io definisco una sana e ragionevole preoccupazione Perché quando si parte da zero, diciamo così Cioè da una situazione in cui un ufficio di polizia Non c'era e bisogna fare in modo di strutturarlo Organizzarlo e metterlo nella condizione di raggiungere i livelli di piano operatività C'è anche un aspetto di sana e ragionevole preoccupazione Fiducia in quello che si stava facendo Fiducia nell'operato dei miei uomini Fiducia che è stata ben riposta E soddisfazione per tutto quello che poi è venuto a seguire E per quei risultati a cui prima facevo riferimento Che sicuramente ci inorgogliscono Croci e delizie potremmo dire di una città comunque in forte crescita Con le sue problematiche di giorno e anche di notte La Dispolia è una città in forte crescita La Dispolia è una città vivace da tanti punti di vista La Dispolia è una città che meritava un commissariato di pubblica sicurezza Croci e delizie sicuramente perché lo sforzo è stato fin dal primo giorno uno sforzo notevole Non siamo 150-200, siamo poco più di 50 persone Che devono cercare di, utilizzo questa espressione un po' asettica Ma che forse rende il concetto Erogare un servizio a tutto tondo Dal passaporto fino all'intervento della volante Che se sollecitata per un'esigenza di soccorso pubblico Per altri motivi deve essere nella condizione di intervenire tempestivamente La macchina è fatta di diversi aspetti, di diverse sfaccettature che debbono funzionare tutte Farlo in una città come questa, vivace, dinamica, con più di 40.000 residenti iscritti anagraficamente Che poi è un numero che sostanzialmente raddoppia nel periodo estivo Significa sicuramente affrontare un grande sforzo Significa dover lavorare ore e ore Significa dover fare doppi turni Significa dover rinunciare al riposo settimanale Però poi tutto questo sforzo alla fine è ripagato dalla soddisfazione Di vedere che il proprio lavoro è apprezzato Ecco, sin dall'inizio vi siete concentrati soprattutto sullo spaccio delle sostanze stupefacenti Ma non solo, anche sull'uso improprio dell'alcol Anche per quanto riguarda i minori Situazioni che poi magari incidono sulla sicurezza urbana Ma anche sulla sicurezza in strada Si può dire che prevenire è meglio che curare a volte? Prevenire è sempre meglio di curare La prima preoccupazione è il primo sforzo che facciamo Ed è per questo che molto spesso si preferisce prima informare Prima avere un dialogo con il singolo cittadino Piuttosto che con un'associazione di categoria Piuttosto che con un comitato di quartiere In maniera tale da informare e sensibilizzare tutti su una certa problematica Che può essere quella della droga Che può essere quella dell'alcol e della somministrazione di alcol Soprattutto ai più giovani Che è un aspetto su cui noi prestiamo particolare attenzione Che può essere una zona che inizia ad essere interessata Da una situazione di degrado che non va bene Perché poi in genera profili di insicurezza Quindi sicuramente prevenire è meglio che curare E in questo senso noi facciamo uno sforzo Che poi produce i suoi effetti Però è inevitabile che poi A volte bisogna anche agire in chiave repressiva Diciamo così Cioè bisogna intervenire a fronte di situazioni Che ormai si sono concretizzate Situazioni penalmente illecite Rispetto alle quali chiaramente noi dobbiamo fare il nostro Il fenomeno della droga è chiaramente un fenomeno Da tenere in massima considerazione Perché interessa questo ambito territoriale Come qualsiasi altro ambito territoriale Il fenomeno dell'alcol Dell'assunzione di alcol Soprattutto da parte dei più giovani E quindi della vendita di alcol Della somministrazione di alcol ai più giovani È un fenomeno su cui noi prestiamo Come dicevo prima Particolare attenzione Che cerchiamo in tutti i modi di evitare Anche, ripeto, attraverso un dialogo costruttivo Con i titolari delle attività commerciali Che devo dire che nel corso dei mesi hanno capito Quanto sia meglio per tutti Quanto possa determinare un circolo virtuoso L'evitare di violare la legge su questo aspetto Quindi rispettare la legge Lo dico in altri termini È conveniente per tutti Perché il commissoriato non ha alcuna intenzione Di mettere il bastone tra le ruote Nello svolgimento dell'attività imprenditoriale Che deve esserci Più che mai in un periodo come questo Che è un periodo di difficoltà Però nel rispetto delle regole di ingaggio E devo dire che attraverso quel dialogo Quell'opera di informazione e di sensibilizzazione Che c'è stata Le cose procedono per il verso giusto E quindi tanti titolari Di tante attività commerciali Imprenditoriali hanno capito Che lavorare Lavorare nel rispetto delle regole di ingaggio E quindi non vendere alcol ai minori Conviene perché la cosa comporta Come dire Un circolo virtuoso Che sicuramente fa bene a tutti Come ha detto lei Ovviamente la preparazione è importante L'informazione è importante Però anche l'operatività Tra i fatti che ricordo Tra le varie operazioni Ricordo anche Quella di alcuni Proprio all'inizio Di alcuni pusher Che agivano in pieno giorno In bicicletta E l'autoradio È intervenuta Nei vicoli di Radispoli Appunto nelle ore pomeridiane E bloccando questi soggetti Che poi sono stati anche arrestati Quanto è importante Appunto il controllo del territorio Ma anche la tempestività Nell'intervento Sono entrambi di fondamentale importanza Noi cerchiamo di esprimere Questo controllo del territorio H24 Senza soluzione di continuità Mettendo in campo Le nostre risorse Che sono il nostro biglietto da visita Il nostro più visibile presidio sul territorio Cioè i ragazzi che svolgono servizi a bordo della volante Svolgono un ruolo di fondamentale importanza Di forte responsabilità Che li espone a dei rischi Rischi rispetto ai quali questi ragazzi sono preparati Perché devo dire Nonostante un'età media Che non è elevata Fortunatamente Hanno un'esperienza già solida Maturata in altri ambiti territoriali Che sicuramente Sono stati capaci Di renderli più forti E più pronti Ad affrontare Qualsiasi tipo di esigenza operativa La volante è di fondamentale importanza Il controllo del territorio È di fondamentale importanza La tempestività degli interventi È di fondamentale importanza Perché grazie a tale tempestività Grazie all'esserci All'esserci il più possibile All'essere tempestivi negli interventi Spesso e volentieri Noi siamo riusciti ad evitare Che situazioni particolari Diventassero ancora più problematiche L'esempio che lei faceva È uno dei tanti esempi Che possiamo citare Ma penso anche Alle tante chiamate Che abbiamo ricevuto Da ambiti Che definirei domestici Perché all'interno Delle mura domestiche Si stavano determinando Episodi di violenza Rispetto ai quali I nostri ragazzi Sono intervenuti tempestivamente E hanno evitato Che capitasse il peggio Abbiamo parlato di problemi Legati allo spaccio Di sostanze stupefacenti All'uso sconsiderato di alcol C'è un odioso fenomeno In questi ultimi tempi Che è riguardato Non solo il litorale nord Un po' Tutto lo stivale È quello delle truffe agli anziani La polizia di stato però È scesa in campo Anche per organizzare degli incontri Che cosa ha fatto poi Concretamente Magari per cercare di arginare Questo problema È un odioso fenomeno Lei lo ha definito correttamente Odioso Problematico E anche difficile Da sconfiggere definitivamente Perché le persone Che truffano agli anziani Sono persone molto abili Persone in possesso di informazioni Che vestono bene Con una bella parlantina Ben organizzati Quindi riuscire A coglierli sul fatto E ad impedire Che concretizzino I loro intenti truffaldini Non è semplice Anche se a volte E sempre di più Ci si riesce Però la chiave di lettura Deve essere diversa Deve essere quella Di informare le persone Riguardo a questo odioso fenomeno Cosa che noi abbiamo fatto E continueremo a fare Raggiungendo direttamente noi Le persone che costituiscono Il potenziale bersaglio Di questi truffaldini Ad esempio presso i centri anziani Lo abbiamo fatto sia qui Alla Dispoli Che a Cerveteri Parlare a queste persone Parlarci il più possibile Spiegare come queste persone Pongono in essere Le loro attività delittuose Perché si tratta di vere e proprie Attività delittuose Che spesso e volentieri Poi portano anche A dei risultati Da un punto di vista patrimoniale Per loro è importante Perché si appropriano di somme Considerevoli Fanno leva Chiaramente su sentimenti E sull'emotività Di queste persone anziane Noi facciamo capire Che quella porta Non deve essere aperta Noi dobbiamo far capire E cerchiamo di far capire Che se qualcuno telefona Parla di una cauzione Che deve essere pagata Per poter far uscire Di prigione Il proprio nipote Ecco lì Le antenne Debbono drizzarsi Perché in Italia La cauzione non esiste Intesa in questi termini E molto probabilmente Dietro a quella telefonata C'è il tentativo Di porre in essere Una truffa Cambiamo decisamente pagina I pattuglioni Con varie forze dell'ordine Insomma Con quale scopo? Perché spesso Nei mesi scorsi Soprattutto nel periodo estivo Nel fine settimana Ma non solo Si vedono spesso Questo tipo di controlli I pattuglioni Controlli interforze Si tratta Di una modalità operativa A cui teniamo particolarmente Perché? Perché l'unione fa la forza Quindi scendere in campo Con più uomini Per quanto riguarda L'aspetto quantitativo Ma soprattutto Ognuno con la propria professionalità E sotto il profilo qualitativo Significa fare un servizio Migliore Più riuscito Nel corso dell'estate Sono stati fatti Tanti cosiddetti pattuglioni Tante task force Interforze Cioè polizia di stato Altre forze di polizia È stata spesso coinvolta Anche la polizia locale Con cui c'è un rapporto Di collaborazione profico E quindi si riesce In questo modo Unendo le forze Unendo le risorse A raggiungere Un risultato Più performante Soprattutto nei momenti In cui ce n'è maggiormente bisogno Vale a dire D'estate Quando la popolazione Chiaramente raddoppia Come dicevamo prima E quando ci sono Tutta una serie di eventi E situazioni sul territorio Che richiedono Questo assetto organizzativo Dottore Noi andiamo un po' Alla ricerca di notizia Una notizia Ci è arrivata In queste ore Che lei Che il suo incarico Sarebbe ormai Gli sgoccioli Qui alla Dispoli Quindi non so Se può confermarci Questa notizia E se eventualmente Può anche dirci Quale sarà La sua prossima avventura Nel corpo della polizia Siete stati bravi La notizia Corrisponde al vero E quindi L'informazione Di cui siete in possesso È corrispondente Al vero Io a breve Ad inizio aprile Passerò Ad altro incarico Il Dipartimento Della pubblica sicurezza Mi ha affidato Un incarico Che reputo Di responsabilità Di importante All'interno Della polizia criminale E quindi Con lo stesso Entusiasmo Con cui Poco più di un anno fa Ho iniziato Questa avventura Cercherò di fare Altrettanto bene Anche Nelle mie nuove vesti E Lascio questo incarico Lascio il commissariato Di la Dispoli Lascio questo territorio Con ricordi bellissimi Con il ricordo Di un'esperienza Importante Molto formativa Che ci ha dato Tante soddisfazioni E Lascio il mio cuore Voglio usare Questa espressione Che non è Retorica Non vuole essere mielosa Ma è la verità Perché Le esperienze Sono state tante E ci hanno arricchito Tantissimo Sia da un punto di vista Professionale Sia da un punto di vista Umano Perché non dimentichiamoci Che il dirigente Di un commissariato Con tutta la propria squadra Ogni giorno Vive il proprio lavoro Per un numero di ore C'è un legame particolare Anche col personale C'è un legame particolarissimo Con il personale Questa è una famiglia E anche in questo Non sono retorico Io lo sostengo sempre Anzitutto io debbo tutto Al personale Perché È grazie al lavoro quotidiano Dei miei collaboratori Che il commissariato Riesce ad andare avanti E a produrre Quei risultati di rilievo A cui prima si faceva riferimento E poi come stavo dicendo Si lavora insieme per ore Ogni giorno Magari sette giorni a settimana Perché non si riesce A fruire del riposo settimanale È la verità Che si passa In ufficio In ufficio per modo di dire Spesso si sta su strada Un numero di ore Spesso e volentieri Superiore rispetto a quello Che si riesce a trascorrere In famiglia E quindi C'è una seconda famiglia Io passerò ad un nuovo incarico Rimarrà in me Il ricordo bellissimo Di questa avventura E di questa famiglia lavorativa Che ha fatto benissimo E che sono sicuro Continuerà a fare Ancora meglio Allora non ci resta che augurarle In bocca al lupo E viva il lupo Tante grazie In bocca al lupo In bocca al lupo